alzati guarda che sgaccia per te c'è una cosa ma quel che sta a fare 18 assolida no tu devi essere consapevole vuoi diventare vuoi andare alla serietà vuoi fare le pulizie da guida a casa tu vuoi fare le pulizie da guida a casa io voglio fare l'avellina a Sanremo no non te ci vuoi dai per favore tu devi fare la stella in pugliese la starlet allora praticamente ti dico solo questo questo ampio stralcio che Fabio ha mandato si riferisce a un film in cui recita un attore che è morto sul set attenzione figlio di un grande campione dalla Cina con furore e ho detto tutto si si che ha avuto diverti seguo con furore seguo chi ha avuto 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 ha dato ha dato ha dato ma non è quello niente nero le iniziali era un volatile guarda anche Arzonella che è in ascolto lo sa è un volatile tu dovresti essere preparato l'attenzione non è non è quindi un volatile guarda guarda che ti sa si 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 il figlio di? di di grande grandissimo che cosa? ha scivato ha scivato ha scivato bravo e lui di nome faceva? sempre Gabby il presidente Marlon come stava Marlon? chi era? Marlon? Marlon il più grande attore di tutti te pronte del porto il padrino Marlon? ho fatto un'offerta che non fa davanti Marlon Brandon quindi come si chiamava? Bruce Lee Marlon Brandon Tony Cucchiara chi è questo Brandon? Brandon te lo guardi Barry?